Ciao Yu, eccoci pronto per l'assaggio dei bucatini con pomodoro pelati in scatola e melanzane cotte in olio di semi di arachidi e poi messi all'interno, quindi fritte, sformaggiata di pecorino e smascinata di pepe. E ora l'assaggio, ovviamente il basilico che dà un profumo che voglio vedere, mamma mia che profumi! Buonissimi, fateli anche voi, commentate se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale perché è gratis, tanti like e che ve lo dica fa! Ciao Yu!